Bentornati amici di MyFootballJersey, vi presento questa maglia di una squadra storica del campionato italiano. Questa ovviamente è la prima del Torino in edizione, scusate, FAN! 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 Cosa ne pensate della maglia? Fatemi sapere nei commenti se vi piace, se non vi piace, se volete altre recensioni di questa squadra. A me non dispiace, sicuramente di un'ottima qualità, al costo che vedete qui sopra un affare imperdibile. Tra l'altro il costo include anche le spese di spedizione. Vi ricordo che, se volete in maggiori dettagli, trovate tutti i riferimenti qua sotto in descrizione. Andate a vedere quali splendide maglie vi attendono. Ora vi lascio alla parte finale. Prima però iscrivetevi al canale. A voi non costa nulla, ma ci permette di offrirvi sempre nuove recensioni. Per oggi è tutto, alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione FAN. Ciao! 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 Ciao!